Nuova puntata dei nuovi mostri o meglio della resistenza parlante ai nuovi mostri, un libro ma non solo un libro, l'idea di non abbozzare come si dice a Roma. Ha qualcosa che vedere con la resistenza parlante e la resistenza culturale più in generale di cui parliamo qui, il fatto che da un lato ci sia una legge bavaglio in approvazione, in discussione ma con timore di approvazione in qualche maniera da parte del Parlamento e anche i tagli della nuova misura economica del governo nei confronti della cultura centra apparentemente, sarebbero due cose separate ma solo apparentemente, come ovvio centra tutto, centra per un motivo molto semplice che sono entrambi sintomi di una malattia grave chiamata chiusura. Questo è un paese, il discorso si potrebbe allargare ma rimaniamo a noi, questo è un paese che si sta chiudendo da anni si sta chiudendo, si chiude agli altri, si chiude all'esterno, si chiude al proprio interno nei confronti del meglio delle persone, si chiude a uno sviluppo e a un progresso culturale, si chiude a una ricerca scientifica diversa, si chiude a un nuovo rapporto fra laicità e confessionalità, si chiude a una politica che sia davvero politica e non semplicemente una guerra di bande fra destra e sinistra, con responsabilità diversamente naturalmente distribuite ma insomma con responsabilità almeno in buona parte complementari, insomma un segnale dietro l'altro di chiusura e che altro è se non una chiusura, è una chiusura da paura, da privilegio e da vantaggio del potere questa legge Bavaglio, perché come è ovvio per le nefandezze che rappresenta in parte l'informazione e in parte la giustizia basterebbe occuparsene seriamente, occuparsi della giustizia vuol dire farla funzionare, occuparsi dell'informazione vuol dire trovare il sistema di evitare la cosiddetta gogna mediatica, che cioè da un lato le informazioni che devono arrivare arrivino alla pubblica opinione e dall'altro quello che non deve arrivare perché non è giusto che arrivi perché tocca la privacy ma non del mafioso e nemmeno del politico, di tutti ma soprattutto del mafioso o del politico, certe volte le due cose coincidono, dicevo ecco un sistema volendo si trova invece no, loro chiudono, non sapendo o non volendo saper fare chiudono e così fanno per la cultura, intanto chiudono, riducono i tagli invece di vedere con il bisturi come si dice come operare sul tessuto di una cultura che è spesso assistenziale, che cosa fanno questi nuovi mostri e a loro volta chiudono e non usano il bisturi, amputano con la sega elettrica, per questo bisogna fare una resistenza che sia parlante. Grazie.